Ed eccoci giunti al periodo della serata in gabbia, per tre round da cinque minuti, due professionisti già molto famosi in Italia, nella categoria dei pesi welter, al limite dei 77 miliogrammi, che si giocheranno a cintura di MMA professionistiche PNFC. All'anno 1 è un boxer, ci si metta spesso anche nel back, anche la boxe a mannude, e allenato dal maestro Leandro Chistano del DJJ Cerignola di Puglia. Diamo il benvenuto al fighter offite della serata, cosimo da male, Giamiano Puglietti! All'angolo rosso è un rapper, già nazionale mentale di MMA e più volte campione italiano di DJJ e MMA, ha un record di 20 vittorie e solo cinque sconfitte da direttante, e resta imbattuto tra i professionisti, anche dopo l'ultimo match in Quillaglia. E allenato dal maestro Luca Pugioni, il combatte per il team armazzo ordenone. E allenato dal maestro Luca Pugioni, il signor Andrea Bruni. Buon appetito! Sì. 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 Sì.